vittoria litiga con fedez perché la chiama iaia lei si chiama vittoria ma poi dopo tutto ok e babbo natale le porta un bel regalo che è la mia princesa aiaia tu sei la iaia e vittoria ma pensa la mia iaia ok vittoria ok vittoria però dico nel mio cuoricino tu sarei sempre la mia iaia sì però ti chiamo vittoria 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 basta iaia è un bel boccone insomma tra un pochino arriverà babbo natale che guarda se hai fatto la brava se hai fatto la monella cosa hai chiesto a babbo natale l'ipad rosa è l'ultimo giorno nella casetta pensa un po da oggi saremmo in una casa nuova quanti ricordi che lasceremo qua è tantissimi ricordi qual è il tuo ricordo preferito di questa casa casa elsa il tuo ricordo preferito quando è venuta a trovarti elsa amore mio e poi è andata via non esiste non esiste elsa esiste elsa no si esiste è venuto a trovarti amore vittoria dopo il dolce fa pace con fedez si tanto c'è babbo natale e ci sono anche i dolci vittoria 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 vitt